Con me è uno spettacolo! Oh, perfetto, The Winter Soldier. Cosa? Per uno che ha due mani così, sei una frana a dare i pugni! Non hai speranze con me! Mi sono allenato per questo per tutta la vita! Io invece non mi sono allenato affatto, eppure eccomi davanti a te! Deve essere imbarazzante! Grazie a tutti!